bene ciao a tutti amici del mio canale e oggi volevo fare proprio una versione proprio molto proprio chitarra e voce di colpa d'alfredo proprio vasco anche perché poi io sono della zona di modena quindi sono cresciuto con le canzoni di vasco e poi anche perché è stata colpa d'alfredo la prima canzone in scaletta al modena park primo luglio 2017 dove ero presente ovviamente e ovviamente cambierò delle cose perché comunque a livello ritmico solo chitarra e voce magari ovviamente viene fuori un risultato che non è quello che siamo magari di solito abituati a sentire o nella versione studio o in tutte le versioni live che poi ha fatto nel corso degli anni comunque il giro è sempre questo poi no come anche siamo solo noi e ho perso un'altra occasione buona stasera è andata a casa con il negro la troia e sono distratto un attimo di colpa d'alfredo che con i suoi discorsi seri e l'opportuni mi fa scioppare tutte le versioni e prima o poi lo uccido e lei invece non ha perso tempo ha preso subito la palla al pazzo l'ho visto uscire mano nella mano con quell'africano che non parla neanche bene l'italiano ma si vede così fa capire bene quando vuole o tutte le sede ne accompagna a casa una diversa chissà che cosa gli racconta per me è la macchina che c'ha che conta e quella struzza non sei neanche preoccupata di dirmi almeno qualche cosa che sono scusa si era già dimenticata quello che mi aveva detto prima ho tornato a casa questa sera abito fuori Modena, Modena, Park c'è anche in America e ho conferato la macchina apposta e mi ero già montato la testa avevo fatto tutti i miei progetti si non la portavo mica a casa beh se la sposavo non lo so ma cosa conta sono convinto che se non ci fosse stato lui mi avrebbe detto si sono convinto che se non ci fosse stato lui mi avrebbe detto si mi avrebbe detto si Bye-bye.